BNL Benpe Paribas è vicino a te ovunque tu sia. Ti supportiamo senza la necessità di recarti in filiale per realizzare i tuoi progetti, gestire i tuoi investimenti, proteggere ciò che più conta per te o per prenderti cura della tua azienda e del tuo patrimonio. Entra in contatto con noi e scopri BNL Direct per una relazione che si adatta a te.